Qui è Gaeta Frye, mi sentite? Rispondete! Si mette in contatto, signor Spahn. Qui Spahn, Capitano. Abbiamo incontrato il dottor Corby. Cominciavamo a preoccuparci, Capitano. L'ora del controllo è già passata e nemmeno la sua squadra ha dato più segnali. Nessun problema, signor Spahn, sono con me. Faremo ritorno all'astronave entro 48 ore. Le attrezzature del dottor Corby devono essere trattate con molta attenzione. Capitano, si sente bene? Ha la voce stanca. Se si muoverà, potrebbe farne del male. Dobbiamo discutere cose importanti. Risponda, Capitano. Va tutto bene? Benissimo, signor Spahn. Il dottor Corby ha fatto delle scoperte affascinanti. Attendo dimostrazioni. Riaprirò il contatto per il controllo. Qui chi è che chiudo. Questa è una piccola dimostrazione, Capitano. Io sono uno scienziato. Lei ovviamente conosce la mia reputazione. Si fidi di me? Grazie a tutti.